E' la Valle Spluga uno dei luoghi preferiti dagli appassionati di motoslitte che amano correre su e giù per i pendi di questo territorio all'estremo nord della Val Chiavenna per i suoi scenari incantati. Non sono mancati però negli anni incidenti anche gravi che hanno visto coinvolte persone e mezzi anche in tempi recenti come l'infortunio che si verificò lo scorso marzo nella frazione di Monte Spluga quando la passeggera di una motoslitta precipitò per alcune decine di metri dal ciglio del percorso riportando gravi ferite che richiesero il trasporto della donna all'ospedale di Sondalo. Proprio per questo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo caratterizzati da maggior innevamento i carabinieri di Campodolcino hanno svolto servizi di prevenzione e controllo a bordo di una motoslitta messa a disposizione dall'amministrazione comunale di Madesimo che ha permesso ai militari di svolgere nel comprensorio mediamente 5 servizi a settimana durante i quali sono stati effettuati 110 controlli ed elevate 4 contravvenzioni per violazione dell'ordinanza comunale che regola l'uso di questi mezzi. Le verifiche stese anche alle località Starlegge e San Sisto di Campodolcino hanno evidenziato che durante l'ultimo inverno i conduttori di motoslitte si sono dimostrati molto più rispettosi delle norme di circolazione sia per una questione di responsabilità che per l'inasprimento del regolamento che prevede anche il sequestro del mezzo nei casi di reiterato accesso in zona rossa circolazione senza targa o con targa priva di bolla annuale e omesso rispetto dell'obbligo di fermarsi all'alt intimato dalle forze di polizia. Anche in futuro anticipa l'arma continueranno i sopralluoghi per garantire la sicurezza degli appassionati e degli utilizzatori occasionali di questi mezzi che richiedono sempre prudenza e attenzione nella guida.